Il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, a amarsi solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente e quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo, ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare, noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamo ci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore.